Bottaro, capitano del Borgo Incrociati. Ho visto una partita tra due belle squadre che senz'altro saranno in lotta per salire, però ho visto anche tanto nervosismo in campo da tutte e due le parti. Mi spieghi perché e mi fai un commento sulla partita. Grazie. Verissimo, hai ragione. Secondo me è un discorso che tutte e due le squadre vogliono vincere perché tutte e due vogliamo salire. Quando comunque vuoi raggiungere un risultato così magari c'è un po' di tensione, soprattutto alle prime giornate, quando ancora non è delineata la forza delle squadre, magari con la pressione addosso è più facile essere nervosi. Comunque è stato un pareggio tutto sommato giusto che secondo me non accontenta nessuno purtroppo. Vabbè, il campionato è ancora lungo. Io vedo voi, non ho ancora visto il San Bernardino, anche la nuova regina ci mette poi magari qualche altra squadra che poi uscirà fuori in lotta per salire. Anzi tu, se non vado errato, mi avevi pronosticato l'anno scorso che facevate una squadra per salire, ho visto anche che avete dei giocatori di categoria superiore. Sì, sicuramente quest'anno abbiamo allestito, soprattutto in attacco ci siamo rinforzati tanto, anche con la profondità della rosa siamo molto meglio l'anno scorso. Abbiamo qualche assenza adesso, quindi diciamo con questo tour de force con la Coppa magari ci può essere qualche problematica in più, però devo dire che comunque le squadre che hai citato sono quelle che poi se la giocheranno fino in fondo, secondo me col San Bernardino giochiamo la prossima e quindi vedremo lì che passa sono fatti. Ok, bocca, buttare un bocca al lupo per la prossima partita e alle prossime che vedrò a vedere. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.